E' un uccello? E' un pene? No, è un Fuck you, fuck you, fuck you! Mi son ricordato solo ora di avere un secondo canale Qual è la risposta alla domanda fondamentale sulla su Su due piedi mi verrebbe da dire In realtà, prima bisognerebbe rispondere alle cazzate del genere Che fine ha fatto Carmen Sand? La risposta è molto semplice Ma vi prego, non fatemi sempre Vi prego